Musica Riparti Piemonte, dichiarazione di urgenza da parte dell'Aula e incardinamento in prima commissione. I positivi al Covid non possono prendere taxi e mezzi pubblici, a ribadirlo l'assessore alla sanità Luigi Cardi nell'ambito dei question time. Nuova edizione di Consiglio News. In primo piano il disegno di legge Riparti Piemonte per il rilancio delle attività economiche regionali. Il provvedimento a cui l'Aula ha attribuito il carattere di urgenza è stato al centro dei lavori in prima commissione. Il disegno di legge Riparti Piemonte dovrebbe arrivare in aula il 19 maggio e questo l'accordo raggiunto in prima commissione presieduta da Carlo Riva Vercellotti dove il provvedimento è stato incardinato. Si prevede perciò che la commissione si riunisca mattino e pomeriggio tutti i giorni fino a venerdì 15 per discutere e licenziare il corposo provvedimento che dovrà stanziare oltre 800 milioni per aiutare il Piemonte a superare la crisi socio-economica legata all'emergenza coronavirus. I provvedimenti all'esame della commissione bilancio sono in tutto quattro. Si tratta del disegno di legge 95, interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid-19, meglio conosciuto con il nome di Riparti Piemonte, illustrato dall'assessore al bilancio Andrea Tronzano e dall'assessore alla semplificazione Maurizio Marrone, e di tre proposte di legge presentate rispettivamente da Raffaele Gallo, PD, Marco Grimaldi, LUV e Domenico Ravetti, PD. Nella seduta di martedì scorso il Consiglio regionale aveva approvato a maggioranza la dichiarazione di urgenza per il disegno di legge Riparti Piemonte, che poi dovrà passare al vaglio dell'Aula per essere trasformato in legge regionale. È stato approvato dall'Aula un piano triennale per il sostegno al mondo sportivo che prevede uno stanziamento di 7,5 milioni di euro. Il Consiglio ha dato il via libera al programma triennale 2020-2022 sullo sport. L'Aula ha approvato a maggioranza la proposta di delibera che doterà il Piemonte di un piano articolato di interventi per l'impiantistica e la promozione delle attività sportive. È la prima volta che un unico piano che include l'impiantistica sportiva e la promozione sportiva e si struttura in quattro assi, che sono gli impianti e la promozione, gli sport tradizionali, le società storiche, gli sport invernali, olimpici e paralimpici. Per il 2020 sono previsti interventi diversi da quelli precedentemente programmati in conseguenza dell'emergenza Covid-19, che saranno specificati nel piano annuale strettamente connesso al disegno di legge riparti Piemonte, che prevede per lo sport 7,5 milioni di euro. Una nota negativa nella redazione di questo piano è sicuramente tutto quello che sono le grandi associazioni di promozione sportiva che hanno scritto direttamente all'assessore e hanno chiesto all'assessore un incontro prima dell'approvazione di questo piano. Un incontro che, a quanto sappiamo, ci hanno raccontato, non è avvenuto. È un piano che, a mio avviso e a nostro avviso, ha la sensibilità di toccare anche elementi forse poco considerati in passato, penso in particolare al tema della scuola e il tema della disabilità. È un piano che, ovviamente, nella emergenza è riuscito a inserire il passaggio sull'emergenza del coronavirus. L'attività motoria nell'elementare sarà quella che più risentirà del rientro scolastico in condizioni post-emergenza, e speriamo sia post-emergenza. Ecco, io mi chiedo se si sia pensato a qualche intervento un pochino più mirato e preciso per cercare di affidare fin da subito la gestione delle ore dedicate all'attività motoria, alle elementari, a dei professionisti, perché altrimenti credo che sarà una di quelle materie che verrà messa da parte. Sostenere il sistema, uso il termine imprenditoriale in senso lato, durante l'emergenza, vede un'attenzione positiva da parte di tutte le forze politiche rappresentate, sentendo i colleghi prima prescindere maggioranza-minoranza, mi sembra che si stia imboccando la strada giusta per andare a dare le risposte condivise e discusse però nel massimo interesse dei piemontieri. Approvato all'unanimità, l'ordine del giorno collegato a prima firma di sabato, con lo stralcio del punto in cui si chiedevano contributi sotto forma di premialità per associazioni, federazioni e enti che gestiscono impianti pubblici in concessione, perché superato dalle misure previste dalle DDL, riparti Piemonte. Approvati dall'Assemblea legislativa anche due ordini del giorno. Il primo del gruppo della Lega, con primo firmatario Walter Marin, che impegna Giunta e Consiglio regionale a richiedere al Governo riduzione nei comuni montani e con popolazione inferiore a 5.000 abitanti della fascia di rispetto cimiteriale da 200 a 50 metri. Il secondo di Forza Italia, firma Paolo Ruzzola, su emergenza Covid-19, la regione sostenga i comuni e l'economia locale attraverso il rilancio dei lavori pubblici e rivolto in particolare ai comuni di piccole e medie dimensioni fino ai 15.000 abitanti. Con l'assenzione della maggioranza e il voto favorevole dell'opposizione, il Consiglio regionale invece ha respinto la proposta di legge che puntava a inserire anche le mese scolastiche fra le spese coperte dall'assegno di studio, il cosiddetto voucher. A presentarla Marco Grimaldi, l'UV, che avrebbe voluto modificare in questo senso l'attuale legge, norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa. Le persone positive al Covid non possono prendere taxi o altri mezzi pubblici. A ribadirlo l'assessore alla sanità Luigi Cardi rispondendo a un'interrogazione del consigliere Alberto Avetta del Partito Democratico. A seguito delle segnalazioni di associazioni datoriali e sindacati degli operatori taxi di persone positive Covid-19 che al momento della dimissione dagli ospedali hanno utilizzato il servizio pubblico dei taxi per raggiungere i propri domicili senza particolari cautele di trasporto, il consigliere del Partito Democratico Alberto Avetta ha chiesto, nell'ambito dei question time, quale sia il protocollo di trasporto previsto per i pazienti nel tragitto tra le strutture sanitarie e i rispettivi domicili e perché, nonostante ciò, alcune strutture sanitarie siano state costrette a rivolgersi ai taxi per il trasporto dei dimessi Covid-19. È tanto singolare quanto ingiustificabile che alcuni pazienti Covid, al lato della dismissione dalla struttura sanitaria, e quindi probabilmente ancora positivi, seppur in via di guarigione, non siano stati trasportati con ogni cautela possibile dalle strutture appunto alle loro abitazioni. L'assessore alla Sanità Luigi Icardi ha sottolineato che la nota che l'unità di crisi ha trasmesso alle aziende sanitarie con le prime indicazioni per la gestione delle dimissioni di pazienti con infezione confermata da SARS-CoV-2 risale allo scorso 25 marzo. L'unità di crisi ha ribadito che è fatto di vieto di utilizzare mezzi pubblici, compresi i taxi, per gli spostamenti per motivi sanitari per pazienti Covid positivi. Siamo arrivati al termine, è tutto, grazie per averci seguiti, ci vediamo alla prossima edizione di Consiglio News. Grazie a tutti, grazie a tutti.